E' una giornata di festa ma anche di solidarietà, di amicizia, di sport che sono poi quella parte importante della cultura. Quando parliamo di cultura e della legalità parliamo anche di questo, parliamo anche di sport, parliamo di amicizia, parliamo di solidarietà. E quindi è una giornata in cui viene tutto assieme, questi sentimenti, questi ideali per noi e siamo felicissimi di essere qua a San Paolo. Sì è una grande occasione, vengo persino io a giocare che non gioco a calcio da 15 anni, però è troppo bella, poi è un'occasione di stare sul Prato del San Paolo, è un momento di grande emozione, quindi bellissimo.